yeah blaze ragazzi ben ritrovati ad un altro mio video sono sempre io cb 2010 mamma mia mamma mia e partita atalanta spal incredibile una partita spettacolare bellissima un'atalanta partita bomba come sempre primo tempo atalantino meritato vantaggio spal in balia dei padroni di casa ma poi nella ripresa grande spal che carattere una spal completamente diversa che ribalta totalmente l'inerzia della partita primo tempo gol dell'atalanta spettacolare duvan zapata fa l'assist colpo di tacco di ilicic meritato vantaggio ma nella ripresa due disattenzioni dell'atalanta due gol veramente belli della spal nel secondo tempo tutt'altra spal al minuto 54 l'uno pari grazie a petagna che sfrutta bene l'assist di reca che si fa tutto il campo prende in contropiede la difesa dell'atalanta mette al centro e come un falco fionda sul pallone petagna gol da attaccante puro uno pari passano solamente sei minuti e appunto arriva l'impossibile perché fino a quel momento l'atalanta fino all'uno pari aveva in mano la partita ci pensa valotti con un gran bel gol l'attaccante vero c'è questo assist di dabbo al minuto 60 valotti prende in contropiede la difesa i due centrali dell'atalanta tiro potentissimo all'angolino sinistro portiere che non può nulla brutto stop casalingo dell'atalanta inaspettato vittoria fondamentale della spal che abbandona l'ultimo posto in classifica va a quota 15 punti e acchiappa il brescia veramente una serie bellissima mi sto divertendo tantissimo e niente ragazzi questa era soltanto una live reaction post partita su atalanta spal ci si vede al prossimo video commenterò come sempre la giornata intera la ventesima la prima di ritorno tutte le partite che si sono disputate nel weekend mi raccomando se siete nuovi qui in basso se volete iscrivetevi lasciatemi anche un bel pollice in su per farmi capire se vi è piaciuto il video se volete condividete i miei contenuti nelle vostre pagine social mi trovate come sempre su twitter instagram e telegram ditemi la vostra qui in basso un bel commento è sempre ben gradito al prossimo video bless